ci riproviamo a fare le meringhe vediamo se stavolta vengono meglio incrociamo le dita eccole qua eccole qua ecco ce l'abbiamo fatta stavolta belle guarda la meringa un profumino stavolta ce l'abbiamo fatta non poteva mancare il nostro goccio questa volta mettiamo la nocciolata proprio per dargli il tocco e poi per completare le nostre potete palcomaleno quindi cos'è un'altra idea per carnevale voilà meringa nocciolata crema nocciolata il codetto arcobaleno ma che belle adesso questa facciamo questa un po' più grandina così ci mettiamo il nostro codetto la famosa prova del nove giusto il tango ecco 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 Grazie a tutti.